Per ogni azione politica che si rispetti il punto primo è proprio recuperare le tradizioni, ritornare alla storia, in questo momento parliamo della Befana e siamo qui a noi Cattaro, no? Sì, Fratelli d'Italia crede nei valori cristiani, crede nella tutela e valorizzazione delle tradizioni, e come circolo di noi Cattaro hanno avuto una splendida idea, quella di organizzare e promuovere una festa all'interno del circolo cittadino per creare lo spirito comunitario e farlo manifestare con le loro famiglie e con coloro i quali si sono voluti avvicinare. Io penso che sia un ottimo punto di partenza per incominciare il 2023 nel solco dei valori, dei principi e delle tradizioni. Con Fabrizio Tattarella abbiamo fatto un lungo reportaggio sulla fondazione dedicata a Pinuccio Tattarella e al suo papà Salvatore, no? Siamo a noi Cattaro dove Pinuccio Tattarella ha fatto il consigliere comunale, parti come dicevi nel 2023 con questa bellissima iniziativa, cominciare l'anno così è davvero bello. Sì, ricordo anche che in queste giornate si sono aperti tanti altri circoli cittadini, posso ricordare quello di Mola, quello di Bitonto che si è trasferito in una via centrale e ogni circolo cittadino ha voluto intitolarlo a un suo militante, ha un suo iscritto, ha un suo dirigente e questo rappresenta anche la volontà di ricordare tutti coloro i quali hanno contribuito a fare in modo che Fratelli d'Italia potesse diventare oggi il primo partito in Italia e avere un presidente del Consiglio. Che segnale è questo della gente che si avvicina, delle sezioni che si ripopolano? Che si sta tornando a fare politica come un tempo, quella di appunto il circolo, di persone che vogliono stare insieme, di persone che si riconoscono in un movimento e in un contenitore che è quello di Fratelli d'Italia con il semplice gesto della tessera, con il gesto di voler stare insieme, di organizzare delle cose insieme e di promuovere delle attività. Si tornerà a fare politica come un tempo e diciamo che Fratelli d'Italia è precursore di questo perché è l'unico partito che ad oggi è riuscito ad aprire tanti circoli territoriali e sono convinto che entro il 2023 sarà strutturato in ogni comune almeno un circolo territoriale.